è questa un fascino allora non che avventurina è avventurina verde un colore sì assolutamente di stagione ma che ha una personalità molto spiccata quasi sorbettosa direi perché a differenza per esempio del quarzo rosa che è la pietra fra tutte un po più traslucente un po semi trasparente con queste venature molto particolari l'avventurina verde invece da proprio l'idea del sorbetto a un qualcosa ha una vitalità intrinseca particolare tra l'altro si dice che l'avventurina verde porti proprio ottimismo ecco la regina fra tutte le pietre la gatta rossa nonché corniola vediamo mariana che con l'abito un po blu elettrico prende delle sfaccettature di viola quasi sì assolutamente le pietre poi sai che assumono delle nuance diverse a seconda di come le abbini ecco direi che la gatta rossa che appunto la corniola ha una lucentezza e un senso quasi di nobiltà di regalità di grande lusso ed eleganza molto molto spiccata ognuna di loro ha una sua personalità con la parte col quarzo blu quarzo blu grazie a tutti grazie a tutti